Oh, guarda, ma ci siamo con questa storia. Avevano dei barattoli, io le ho intravisti, sembrerebbero dei barattoli di marmellata svuotati, riempiti con una minestra di verdura, le avevano addosso, per cui non ci si poteva immaginare che avessero questo. Approfittando di questo momento di avrai, di pubblico, hanno tirato fuori il barattolo, buttando la minestra sull'opera e incollandosi successivamente al di sotto del dipinto. Grazie a tutti.